Si è tenuto presso la sala congressi La Torretta il convegno Tribunale dei Nebrodi, unica via percorribile. Tanti gli invitati ed i relatori che hanno esposto la loro idea e la loro opinione sulla nascita del nuovo tribunale. A moderare l'incontro e ad introdurre i vari ospiti l'avvocato Salvatore Timpanaro, presidente della sezione ANAI di Nicosia. Dopo un saluto a tutti gli intervenuti l'avvocato ha introdotto il tema della serata facendo un breve scursus della storia che ha portato all'idea di costituzione di un tribunale dei Nebrodi, che nell'idea originale doveva avere due sedi paritetiche, poi una sede centrale ed una staccata e dopo l'incontro del 9 ottobre un'unica sede. Si è passati ai saluti del sindaco di Nicosia dottor Sergio Marfitano che ha voluto ricordare e sottolineare i colloqui avuti con il capo dipartimento del DOG, dottor Luigi Birretteri. La proposta unitaria che dovrà condurre al decreto correttivo non potrà prescindere dalle linee guida dettate dal ministero, ovvero sede unica e numero minimo di abitanti del nuovo distretto giudiziario, non inferiore a 100.000. Parametri che se rispettati non dovranno dare alibi ai funzionari e dal ministro per emettere il decreto correttivo. Dopo l'intervento del sindaco prende la parola l'avvocato Pier Giacomo Lavia del coordinamento unitario per la salvezza del tribunale. L'avvocato ha centrato il suo intervento sull'unione dei territori da cui non si può prescindere. L'accordo preventivo dovrà portare successivamente al protocollo d'intesa tra i comuni del circondario e successivamente potrà essere stilata una proposta che verrà presentata al ministero. Senza l'accordo preventivo ogni proposta effettuata secondo il legale nascerebbe morta. Auspica la nascita di un comitato composto da tre sindaci del circondario di Mistretta, tre sindaci del circondario di Nicosia e tre avvocati in vestiti tecnici che possono mettere in piedi una proposta per il ministero. Interessante l'intervento dell'ex procuratore di Nicosia, dottor Fabio Scavone. Il magistrato con una nota d'amarezza ha ricordato l'ottimo lavoro svolto presso l'efficiente tributante di Nicosia ed ha sottolineato come diritto ed economia non devono mai equipararsi e soprattutto la legalità non deve sacrificarsi alle esigenze economiche. Il sindaco di Mistretta, avvocato Iano Antoci, difende l'idea del tribunale Denebrodi anche se ormai dovrà essere istituito con una sede unica a Nicosia. Ma questo deve essere la base per un'unione di intenti del territorio. Non vuole parlare di posi di compensazione ma appare chiaro che il progetto carcere Denebrodi non potrà che avere una sede nella cittadina amastrina dopo il sacrificio che è stato fatto perdendo definitivamente il presidio di giustizia. Ben più ampio il discorso del sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re. Il primo cittadino ha analizzato la crisi economica di un intero territorio fornendo dei dati drammatici. Una criminalità che senza presidi di giustizia rischia di diventare padrone del territorio. Occorre quindi sviluppo, lavoro e legalità per ripartire ed il tribunale Denebrodi è la prima tappa per far rinascere l'intero territorio. Il sindaco di Capizzi e avvocato Giacomo Purrazzo ha messo in evidenza come il suo comune è tra i più penalizzati per le strade di collegamenti. In prima linea nella lotta per il tribunale auspica che questo territorio diventi presto un libero consorzio tra comuni. Nello stesso tenore tutti i successivi interventi dei rappresentanti dei diversi comuni del territorio come il presidente del consiglio comunale di Castel di Lucio, avvocato Giuseppe Nobile, il presidente del consiglio comunale di Troina, ingegner Alfio Giacchino, il presidente del consiglio comunale di Nicosia, dottoressa Maria di Costa ed il dottor Carmelo Re, presidente del consiglio comunale di Santo Stefano di Camastra. Tra gli interventi più importanti quello del presidente dell'ordine degli avvocati di Caltanissetta, avvocato Giuseppe Iacona, che si è impegnato a presentare il tribunale Denebrodi come parte integrante della corte d'appello di Caltanissetta. Sulla stessa linea gli interventi degli avvocati Salvatore Porracciolo, presidente dell'ordine degli avvocati di Nicosia. L'onorevole Maria Greco, che ha abbracciato con forza nei giorni della protesta la battaglia per salvare il tribunale, ha raccontato quanto è avvenuto nell'incontro del 9 ottobre con il ministro e l'apertura verso la nascita di un tribunale con un'unica sede, anche se per il parametro del numero minimo di abitanti il ministro si è resa disponibile ad una trattativa qualora non si raggiungesse il numero dei centomila. La parlamentare Girina auspica che questo accordo non fermi l'emergenza del territorio ed ha ricordato altri gravi problemi che affliggono il circondario, a partire dall'importante problema della viabilità per il quale ha presentato un disegno di legge ed ha messo in piedi una cabina di regia per monitorare il problema. Ci sono poi il problema degli ospedali depotenziati o quello del taglio dell'Agenzia delle Entrate di Nicosia, tutti i problemi che nei prossimi mesi saranno al centro della sua agenda parlamentare. Per ultimo il lungo ed appassionato intervento dell'avvocato Maurizio De Tilla, presidente nazionale della NAI, nel suo discorso non ha risparmiato nessuno dei protagonisti di questa triste vicenda che ha penalizzato le popolazioni dei territori e messo in ginocchio la giustizia. Con la sua consueta verve di ironia ha attaccato il ministro della giustizia, il governo, la presidenza della repubblica, i burocrati del ministero, perfino la magistratura rea di aver appoggiato l'iniguo decreto legislativo e per ultima anche la commissione istituita dal ministro per rimediare alle criticità della riforma. A suo avviso dentro ci sono persone vicino al ministro che non garantiscono per nulla l'imparzialità delle decisioni. La NAI appoggerà ogni forma di lotta per far abrogare la riforma della geografia giudiziaria a partire dal referendum indetto da nove consigli regionali, l'istituzione di una commissione parlamentare che controlli l'opera della commissione ministeriale e per ultima un incontro con il ministro a cui chiederà immediatamente che si riaprono i presidi di giustizia nei posti disagiati o dove esistono criticità evidenti facendo in modo che le cause trasferite non vengono trattate nei tribunali accorpanti. Nei prossimi giorni il comitato di studio coadjuvato dalla NAI e composto da amministratori locali e tecnici metterà in piedi un protocollo d'intesa ed una proposta seria da presentare al ministro della giustizia.